un'episodio benvenuti ragazzi benvenuti... no, non mi ricordo il mio episodio sesto no, settimo il sesto era quello speciale benvenuti ragazzi benvenuti nel settimo episodio di storm of the castle io sono Pio e ce la rimo allora in questo episodio dobbiamo entrare no non so, non lo farò, non lo farò l'arancione siamo entrati potevo morire male prima anche a morire male quindi vediamo di morire già sti scale di incuturano male cos'è 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 what is it perchè noi siamo una roba della rossa e di tutto blu e queste cose non vengono comprendo I don't comprende no ragazzi lo spero che non ci... è acqua di acqua bisogna adottarsi sotto oh madonna oh ma quanto sei gentile la prima è che 3 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 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 9 10 10 11 10 12 11 12 15 15 14 la sala cazzo sono qui no tiri la storia di porto c'è non è un'applicazione l'individuo aiutare il presidio parete che mi piace la postazione sicura si buca il pub il tuo caso all'altro questo cd d d mamma sesta roba ma che cazzo è hai visto 6 per otto dobbiamo romperli tutti i spori passano ne capiamo le gambe l'ha detto non lo guardare neanche dai valloro ci vogliono secoli il cinema che è sotto non vuoi che ti sanno lì c'è aria città allora ammazza il tipo prima ma non devi salire ogni volta il paio prossimo a qui non c'è un testo un po' un po' parola di poste posti nocce a carte andiamo al prossimo qui è semplice dove siamo arrivati io direi di mangiare bere dormire l'ho 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 direi ma fanno cura se è morto chi morto no cosa perchè è morto quello lì ok ok si dobbiamo romperli tutti si dobbiamo rendersi cura sono tanti potremmo morire bene mi piace a seconda che muoio ci sia bello morire sempre una relazione grandissima a rispettare la trema questa espirazione mi sa che vengono tante se stasera per l'arancione che deve lasciare la scuola dopo c'è tutta la parte dietro si per aiuto io devo farti l'esercito che c'è lo spazio allora pericur quanti siamo c'è che non stai un piede un cazzo ah no ci vuole di più se sei 3.1 eh però te li ricordi e 3 quello lì asomani andiamo in fila andiamo in fila oddio sta costruzione qui a destra è una cosa più bellissima però mi fa una paura in mese no io non commetto è un bravo quello facciamo tutti non commettiamo io ho finito the air the oxygen but i bravo eh sì sì in fila a meno così la è sicura tra cui possiamo mutare tranquilli nei lagre si trova il nascono niente sicuramente non scorda niente però il problema è solo per quelli appunto non spiegare tempoli dentro perché le ciste qualche mangio ci sono te dentro all'ultimo come che si chiama dei waterfringling temple ma perchè la rossa non poteva fatta la blu no mi sa crancione questa eh perchè non era meglio blu no perchè la strada mi fa c'è giusto da l'arancione cazzo 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 ah è così di solito in tutti i giochi di questo combo? eh? è in tutti i giochi di questo tipo? è sempre così? è nel che gioco? il ctm di gioco la lancione la scopo ah prima che non essere cioè io avrei fatto unicolore un tempio di un certo tipo blu il tempio dell'acqua rosso il tempio dell'acqua rosso metti il tempio con tutta la lava roba così perchè no il tempio marrone cosa ci metti? la merda? e dove fai la marrone? come no? sono 16 anni allora però devi fare la montagna tipo montagna a vera con il ferro il nero fai tutta l'ossidiana costruzioni di questo tipo bianco quello di base senza modificare che devi fare tutto bianco ma quello è un po' con caffone e poi che ne so quello verde questo qui deve essere l'ultimo o questo è l'ultimo o un penultimo quello verde fai tipo a mo' di tempo nella giungla ma lo del genere e no eh no ma deve lasciare più filo invece la marancione è il tempio la sua mi allucinazione vero potrebbe essere un po' scuro perché si un filo si infatti massimo la università massimo c mi ha desolito chi ha mi provvise ma si noi tranquilli anche mancano poche questo fatto non manca solo quello e poi mi chiedo ma il tempo sotto l'advento c'è acqua o di no perché piaccia eh anche a me piace dipende se c'è se c'è se c'è l'unico perché io quello l'ha fatto ah non non facciamo un giro in alto cioè prima entra lì prendi l'aria poi facciamo un giro in alto dai a massimo quando usciamo perché diamo un tempo io voglio andare dritto all'obiettivo all'obiettivo io mi assento un secondo perché devi fare il concertino col naso che non funziona il suo buon naso allora in cui diciamo avviare qualcosa ci sarà un giorno non mi piace in cui Fippi non avrà il raffreddore ma non è questo il giorno che è l'obiettivo no no proprio come te vedo giace proprio se mi fulano mangiare anche così però c'è l'acqua sopra eh no non è utilizzabile provo che è un blocco ma non ho la città ma 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 ce l'ha era proprio fatta con i scriviterò bello sì che è carina ma ma Ah, ha già tolto lui Metti una torcione in mezzo Un po' di luce Lux Lucis Dai, usa l'arco Madonna, non avrei stesso l'arco, cazzo Oddio Attenzione, Mimmo l'arciere Dai, colpisci lo quelli lì Il creeper, colpisci il creeper No, è qui per vagarla Mim, perché non puoi usare il cazzo di arco? Perché non lo posso dar l'arci, no, perché Mimmi, no, vedi che lo sto usando? Una mira di merda Sì, guarda la normalità Lo usi, perché sennò moriamo male Almeno contro i creeper Ah, c'è il pesce Ti la tolgo il pesce, prendi il pesce, il pesce Respira, respira, uccidi, uccidi Il pesce, il pesce Non devo respirare lì Non posso respirare Poi metterò il pesce sotto Questa è la vera giustizia, magari Ok Questa è l'unica via o c'è un'altra? L'unica via è questa Chi è che mi ci sta persigliando? Qualcuno che va a lasciare subito Ah, Mario, Mario c'è l'aria Oddio Guarda se è più forte il tuo Il nostro come è Allora, il nostro potenza è uno Sì, togli il mio pio Ci penso Metti un po' di torce E con questa cosa mi vuoi insinuare? Metti un po' di torce che, come ho detto prima, non è un'unica via E con questo, scusa Dai, non mi cadiva Facciamo qualsiasi vuol dire? Vai a vedere nella sala principale, sicuramente? Ah, da là siamo arrivati noi, no? Guarda Scusa, non l'ho visto Destra e sinistra Cazzo Ma, uccidi i bastardi Non vale la pena Non ne vale la pena Cioè non devi sponerlo, no? Non lo so, tu uccidi Ah, qua ti manzò Che cosa è? Oh, madonna Michele aveva visto a sta parte Che palle Finisce più Qui, qui, già non vediamo noi Voi non vedrete veramente niente Che cazzo Non mi lo peder palle Mi lascia indietro tu Must eat Mi piaccia sto posto per niente Speriamo in nessun Quasi sale Quasi sale Quasi sale la birno Dai, no Diventa labirinto Buongiorno Buongiorno Eh, buongiorno Lì vedo Zona respirabile Sì, basta che non vede un piccoglione No, sti qua ce la posso portare Quasi sale Oh, oh Via, via Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? No, sti qua ce la posso portare No, sti qua ce la posso portare Dio No 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 Ci spari out No 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 Grazie a tutti. 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 Allora... questo... ... 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